quando è uscito il primo space jam certo tutti siamo rimasti molto impressionati credo che fossimo davvero davvero più ingenui credo che avessimo una visione quasi religiosa mistica di michael jordan il mio ricordo specifico è la colonna sonora è quel per esempio quell'archelli quel concetto di volare portato a un livello artistico che onestamente per l'epoca era abbastanza scioccante abbastanza spiazzante per noi in space jam legends doppio del tutto immeritatamente ernie johnson grande collega se posso onorarmi di chiamarlo così anchorman di tnt l'uomo che conduce lo studio cestistico più noto e più divertente probabilmente di tutti i tempi un signore molto educato molto tranquillo che però governa con grande autorità questo studio con il suo farfallino io sono completamente diverso e devo dire mi piace molto provare a immedesimarmi in una stella assoluta del firmamento della tv l'esperienza del doppiaggio l'ho fatta perché un amico mi ha proposto di farlo e perché mi andava c'è sicuramente un pizzico di vanità c'è sicuramente un pizzico di comprensione di quanto questo film affratellerà ancora una volta di più tutti quelli che amano la palacanestro ma non solo quelli che amano la palacanestro diciamo che oltre al soddisfacimento personale se conquisterà altri che in questo momento non sanno di amare la palacanestro ma sicuramente dentro possono amarla sarò davvero contento il cinema è evidentemente il nostro immaginario per la mia generazione l'immaginario in assoluto più potente all'epoca della televisione anche se io ho lavorato nella televisione e posso solo essermi divertito in questa occasione a fare una breve incursione in un ruolo specifico nel cinema l'animazione l'animazione è tutto io per me la settimana finiva o cominciava quando sulla tv svizzera che era colori prima della tv italiana c'erano i cartoni del sabato sera quello era l'evento per definizione della mia settimana di intrattenimento scaccia pensiero con scaccia pensieri con tantissimi personaggi come Bugs Bunny, Duffy Duck e compagnia visto quanto sono distratto visto quanto sono perdente visto quanto non sia capace di vincere qualsiasi sport stia facendo c'è solo un imbarazzo della scelta però prendo il coyote Wiley Coyote se dobbiamo dirlo all'americana Willy Coyote se dobbiamo dirlo come quando eravamo bambini ecco mi piacerebbe portarmelo dietro e capire cosa prova ogni volta a perdere eppure essere protagonista un quintetto è sempre difficile da fare però diciamo intanto ci mettiamo superman e batman perché servono ci rimettiamo di dietro che possono fare le guardie poi ci mettiamo al centro Godzilla così torniamo anche un po' indietro negli anni tanto prima o poi il centro di peso tornerà ecco in ala però devo metterci quelli che mi piacciono davvero i caratteristici personaggi dei Looney's e quindi ci metto il coyote e Gatto Silvestro perdenti che possono vincere